CNA Matching. In un solo giorno, un anno di contatti. Un'occasione per avere tante opportunità di business, avere visibilità e stringere relazioni di lavoro. Potrai sviluppare partnership, vendere i tuoi prodotti o servizi, acquisire contatti strategici, valutare le tue possibilità di esportazione, condividere soluzioni efficaci, abbattere i costi ed entrare a far parte di una grande rete. È un'iniziativa regionale, ma di respiro internazionale, con la presenza di otto delegazioni delle Camere di Commercio Italiano all'estero. Partecipare è semplice. Dall'iscrizione alla richiesta di incontri, fino al calendario programmato, una piattaforma innovativa agevolerà tutti i passaggi. Sono oltre 300 le imprese partecipanti con cui avere relazioni di business. Risultati concreti e subito evidenti. Ente promotore, CNA Lazio con il supporto delle CNA di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Piterbo. Che aspetti? Non perdere questa opportunità. Vai subito su www.cnamatching.it CNA Matching, connessi al cambiamento.